I laici sono uniti a Cristo quando vivono il valore della vita sociale, giustizia, sincerità, onestà, cortesia. Mentre viveva sulla terra, Maria, fra sollecitudini familiari e lavoro, era unita al figlio e cooperava all'opera del Salvatore. I laici abbiano stima della competenza professionale, del valore della famiglia, del senso civico e di quelle virtù che riguardano la vita sociale, l'indegrità morale, il senso della giustizia, la sincerità, la cortesia, la fortezza d'anima. Senza queste virtù non ci può essere autentica vita cristiana. Noi mettiamo troppo l'accento sulla preghiera verbale, indispensabile, perché un parlare con Dio, un parlare con Gesù, con i Santi, ottimo, però la preghiera verbale deve essere concretizzata nella vita quotidiana, perché la vita quotidiana deve diventare una preghiera. Non possiamo quindi pensare che la Madonna, partata da tutti e da tutto, fosse in continua a contemplazione, intesa in senso stretto. Al contrario, viveva una vita comuna a tutti, pestare il grano nel mostaglio, mettere i legumi e la focaccia al fuoco del camino, lavare la biancheria, andare a spigolare e a raccogliere paglia e arbusti per la fiamma che doveva riscaldare e la sera illuminare la piccola abitazione. Anche lei ha dovuto affrontare per sé, per Giuseppe e per il suo figlio Gesù, la dolorosa situazione della malattia, della mancanza di lavoro, dell'incomprensione. Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei momenti di crisi nel rapporto con suo marito Giuseppe, del quale taciturno com'era, non sempre avrà capito i silenzi. Come tutte le madri, ha spiato pure lei tra trimori e speranze nelle pieghe tumultuose dell'adolescenza di suo figlio. Oggi le donne vivono in un altro contesto sociale, ma ugualmente ricche di sentimenti e di valore interiore. Non sempre però riescono ad esternare un'autentica femminilità, al contrario del passato. Sanno che devono contare su se stesse, badare a se stesse come gli uomini e portare il proprio contributo di lavoro e di denaro alla famiglia. Un tempo, quando si parlava di lavoro della donna, si intendeva dire accudire i figli, rattoppare, un po' di biancheria, cucire, ricamare. Oggi non basta un intero vocabolario per esprimere le varie attività professionali, quindi infermiere, medico, avvocato, poliziotto. La si vede impegnata nelle competizioni politiche, sportive ed artistiche. Rispetto ai tempi passati, risiede nel contesto culturale in cui oggi vivono le donne e che molte volte intacca la loro convinzione religiosa e morale. Del resto, San Paolo ricorda, dovunque che manciate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa. Fate tutto per amore di Dio.